L'ultima edizione di Stadionews in studio. Riccardo Gatto. Il Palermo continua gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Torino. I rosa e nero sotto la guida di Giovanni Bosi hanno svolto esercitazioni tattiche, una partita d'allenamento a tutto campo e lavoro di carattere atletico. Enzo Maresca si è allenato regolarmente in gruppo, mentre Ariadz Strun, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra riportato nel corso della seduta, ha svolto un allenamento differenziato. Josip Fosavez, nell'ambito del proprio programma personalizzato, ha incrementato invece i carichi di lavoro. Sarà Angelo Cervellera di Taranto l'arbitro di Palermo Torino e il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Di Fiore e De Aosta e Stefano Alassio di Imperio. Il quarto ufficiale sarà invece Sergio Ranghetti di Chiari. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha commentato così la scelta di affidare la panchina al duo Bosi tedesco fino al termine della stagione. In questo momento si stanno scrivendo tante subitagini sulla nostra squadra, ha spiegato Zamparini. Addirittura viene anche accostato il nome di Walter Novellino. Non esiste proprio questa idea, anche se Walter è un mio amico e ci conosciamo da tanti anni. Confermo al 100% Bosi che avrà in tedesco un validissimo collaboratore. Questa coppia guiderà il Palermo fino al termine del campionato. Dopo la lit tra Ballardini e Sorrentino in coel di Coccaio, culminata con l'esonero dell'allenatore dopo la sfida contro l'Elas Verona, la storia tra i due litiganti prosegue. Ballardini in un'intervista rilasciata qualche settimana fa aveva annunciato che avrebbe agito alle vie legali. Parallelamente al corso giuridico indaga però anche la procura federale che sta provando a fare chiarezza su tutta la situazione. Nei giorni scorsi infatti sono stati ascoltati lo stesso Ballardini e Sorrentino, ma anche il direttore sportivo del Palermo Gerolin, Vasquez, Gilardino, Goldaniga e Cristante. L'argomento delle domande, il comportamento dell'allenatore durante la partita. Intervistato da Stadionews24, l'ex allenatore del Palermo Baros Schielotto saluta così i suoi ex tifosi e la città siciliana. Ascoltiamo le sue parole. Molte grazie allo tifosi di Palermo, penso che la decisione è la migliore per Palermo. Grazie a tutti.